Facciamo la prova del sanno. Proviamo insieme. Ancora una volta. Sarà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Grazie. 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 Lodate Dio, siere beate nel cielo. Lodate Dio, genti di tutta la terra. Cantate a lui che l'universo creò. Lodate Dio, padre che dona ogni bene. Lodate Dio, risco di grazia e perdono. Cantate a lui che tanto lo dominiamo da dare l'unico figlio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, semprevergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amén. Signore Pietà, Signore Pietà, Cristo Pietà, Signore Pietà, Signore Pietà, Signore Pietà, Signore Pietà, Gloria a Dio nell'alto dei Cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi Ti odiamo, Ti benediciamo, Ti adoriamo, Ti glorifichiamo, Ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onipotente, Signore Figlio di Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre. Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra sofficata. Insiedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché è Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e la gloria di Dio Padre. Preghiamo. O Dio, che nella Tua misteriosa provvedenza mandi dal Cielo i Tuoi angeli a nostra custodia e protezione. Fa che nel cammino della vita siamo sempre sorretti dal loro aiuto, per essere uniti con loro nella gioia eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vivi e reina con Te, nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amén. Dal libro dell'Esodo Così dice il Signore Ecco, io mando un Angelo davanti a Te per costudirti sul cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato. Abbi rispetto della Sua presenza, dà ascolto alla Sua voce e non ribellarti a Lui. Egli, infatti, non perdonerebbe la vostra trasgressione, perché il mio nome è in Lui. Se tu hai ascoltato alla Sua voce e fai quanto ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici e l'avversario dei tuoi avversari. Il mio angelo camminerà alla Tua testa. Parola di Dio. Parola di Dio. Darà ordine ai Suoi angeli di custodirti in tutte le Tue vie. Chi abita al riparo dell'Altissimo passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido. Darà ordine ai Suoi angeli di custodirti in tutte le Tue vie. Egli ti libererà dall'accio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le sue penne. Sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Darà ordine ai Suoi angeli di custodirti in tutte le Tue vie. Non temerai il terrore della notte, né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta mezzogiorno. Darà ordine ai Suoi angeli di custodirti in tutte le Tue vie. Non ti potrà colpire la sventura. Nessun colpo cadrà sulla Tua tenda. Egli per te darà ordine ai Suoi angeli di custodirti in tutte le Tue vie. Alleluia, 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 Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo «Chi è dunque più grande nel Regno dei Cieli?» Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse «In verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel Regno dei Cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino costrui è il più grande nel Regno dei Cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei Cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei Cieli». Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, non siamo soli, non solo con la compagnia dei santi e dei martiri che ci hanno preceduto nella fede, ma anche degli angeli che con noi attraversano questa via fino al definitivo incontro con Dio. Nell'ultimo venerdì, nella festa degli arcangeli, nell'ufficio delle letture, San Gregorio Magno ci ha ricordato che il termine dell'angelo denota l'ufficio. Questo ufficio è quello del nostro angelo custode, di guardarci, guidarci, illuminarci e proteggerci. Per non lasciarci mai soli, Dio ha posto accanto a ciascuno di noi un angelo custode che ci sostiene, ci difende, ci accompagna nella vita. Tuttavia, sta a noi saper cogliere la sua presenza, ascoltandone i consigli, con la docilità di un bambino, per mantenerci sulla retta via verso il Paradiso. Ognuno di noi ne ha uno, ne ha uno che ci accompagna. E nella preghiera, all'inizio della Messa, abbiamo chiesto la grazia che nel cammino della vita siamo sorretti dal suo aiuto per poi godere con loro nel cielo. L'angelo custode è sempre con noi in questa, e questo è una realtà. È come un ambasciatore di Dio a fianco a noi. Dobbiamo avere rispetto della sua presenza e di dare ascolto alla sua voce, perché Lui ci consiglia. Perciò, quando sentiamo quella ispirazione, ma fa questo, questo è meglio, questo non si deve fare. Il consiglio giusto è di ascoltarla e non di ribellarci all'angelo custode. Per farvi capire la sua effettiva presenza nella nostra vita, racconto un piccolo aneddoto. Ieri ho ricevuto la notizia che un sacerdote alla mia giossesi di Rio de Janeiro è stato colpito da un incidente automobilistico. La sua macchina, roteato per ben tre volte nell'aria, prima di cadere in terra, distruggendo tutto. A Lui, però, non è successo nulla. Quante volte, fratelli e sorelle, nella nostra vita attraversiamo dei momenti in cui il pericolo fisico è reale, ma anche lì ci aiuta il nostro angelo custode. Questo per farvi capire che la sua presenza è reale. Dio ci manda l'angelo per liberarci, per allontanare il timore, per allontanarci dalle sventure. Ci chiede soltanto di ascoltarlo, di rispettarlo. Dunque, soltanto questo, rispetto e ascolto. E questo rispetto e ascolto a questo compagno di viaggio si chiama docilità. Il cristiano deve essere docile allo Spirito Santo, ma la docilità allo Spirito Santo incomincia con questa docilità ai consigli di questo compagno di cammino. E la docilità a questo compagno di viaggio ci fa umili, ci fa piccoli, come un bambino. E proprio questa è la docilità che ci fa grande e ci porta verso il cielo. Quando parliamo di ascolto e docilità, possiamo ricordare anche i pastorelli, che prima ascoltarono l'angelo e con lui impararono a pregare, dopo la Madonna, dove impararono ad amare Dio e lei con tutta la forza dei loro cuori, desiderando eseguire qualsiasi sacrificio per consolarli. I cuori dei pastorelli non erano infantili, invece, con una fede forte e determinata ad aprirsi completamente ai desideri di Dio nella loro vita. Come per i piccoli pastorelli, la nostra vita è intimamente legata a questo santuario. Indipendentemente dal paese, il messaggio e l'invito della Madonna sono e saranno sempre attuali per ognuno di noi. Papa Francesco, nella sua omelia, nella canonizzazione di Francesco e Giazinta, ha detto, Ella, la Madonna, presagendo e avvertendoci sul rischio dell'inferno, a cui conduce una vita ispeso, proposta e imposta senza Dio e che profana Dio nelle sue creature, è venuta a ricordarci la luce di Dio, proprio come questo sole di questa mattina, che dimora in noi e ci copre. E secondo le parole di Lucia, i tre privilegiati si trovavano dentro la luce di Dio che irradiava dalla Madonna. Ella li avvolgeva nel manto di luce che Dio le aveva dato. Secondo il credere e il sentire di molti pellegrini, se non proprio di tutti, faccima è soprattutto questo manto di luce che ci copre, qui, come in qualsiasi altro luogo della Terra, quando ci rifugiamo sotto la protezione della Vergine Madre per chiederle, come insegna la salva Regina, mostraci Gesù. Fratelli e sorelle, questa esperienza personale ed eccleziale con Dio e la Madonna in questo pellegrinaggio è un invito a continuare ad ascoltare la domanda della Nostra Signora di Fatima. Volete offrirvi a Dio per sopportare tutte le sofferenze che Egli vorrà mandarvi in atto di riparazione per i peccati con cui Egli è offeso ed è supplica per la conversione dei peccatori? Se la nostra risposta è sì, possiamo anche sentire dentro i nostri cuori le stesse parole della Madonna. Allora, dovrete soffrire molto. ma la grazia di Dio sarà il vostro conforto. Amén. affidiamo la nostra preghiera al Ministero degli Angeli, messaggeri di Dio, i nostri intercessori. Diciamo insieme, per intercessione dei tuoi angeli ascoltaci, Signore. Per intercessione dei tuoi angeli ascoltaci, Signore. Per il popolo di Dio, perché la protezione dell'Arcangelo Michele possa mantenere intatta la sua fede e respingere e respingere gli assalti del maligno. preghiamo. Preghiamo. Per intercessione dei tuoi angeli ascoltaci, Signore. Per i ministri dell'altare, perché associati alla lode degli angeli siano fedeli dispensatori dei santi misteri. Preghiamo. Per intercessione dei tuoi angeli ascoltaci, Signore. Per tutti gli educatori, perché, a imitazione dell'Arcangelo Raffaele, siano guide generose e sagge di chi è affidato alle loro cure. Preghiamo. Per intercessione dei tuoi angeli ascoltaci, Signore. Per gli evangelizzatori, i catechisti, perché con l'aiuto dell'Arcangelo Gabriele siano portatori fedeli del lieto annunzio e lo confermino con la santità della vita. Preghiamo. Preghiamo. Per intercessione dei tuoi angeli ascoltaci, Signore. Per gli agonizzanti, perché gli angeli del Signore li guidino all'esodo verso la casa del Padre e li conducano alla Santa Gerusalemme del Cielo. Preghiamo. Per intercessione dei tuoi angeli ascoltaci, Signore. Per tutti coloro che sono al servizio dei piccoli, perché nel rispetto degli angeli che contemplano sempre il volto di Dio, promuovono la vita, difendono l'innocenza e non impediscono il cammino dei fanciulli a Cristo Gesù. Preghiamo. Per intercessione dei tuoi angeli ascoltaci, Signore. O Dio, nostro Padre, che ci raduni nella Santa Assemblea, acqua gli nostri voti e le nostre preghiere e fa di noi degli adoratori in spirito e verità, con cittadini degli angeli in cielo. Per Cristo nostro Signore. Amine. Salga da questo altare l'offerta a te gradita, dona il pane di vita e il sangue salutare. Nel nome di Cristo uniti, il calice e il pane ti offriamo per i tuoi doni largiti. Te, Padre, ringraziamo. Salga da questo altare l'offerta a te gradita, dona il pane di vita e il sangue salutare. Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la Patria sia gradito a Dio Padre Onipotente. Accogli, Signore, i doni che ti offriamo in onore dei santi angeli. La loro protezione ci salvi da ogni pericolo e ci guidi felicemente alla Patria del Cielo. Per Cristo nostro Signore. Amine. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito in alto i nostri cuori e con il tuo Spirito rendiamo grazie al Signore nostro Dio e con la sua morte giusta e veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo Dio Onipotente ed Eterno. Noi proclamiamo la tua gloria che risplende negli angeli e negli arcangeli. Onorando questi tuoi messaggeri esaltiamo la tua bontà infinita negli spiriti beati. Tu ci riveli quanto sei grandi e amabili alle sopra di ogni creatura per Cristo nostro Signore. Permetto di Lui tutti gli angeli proclamano la tua gloria. Al loro canto si uniscono le nostre umili voci nell'inno dell'Ode. Santo 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 è il Signore Dio dell'universo I Cieli e la Terra sono pieni della tua gloria Ossana 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 nell'alto dei Cieli Benedetto colui che viene nel nome del Signore Ossana 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 nell'alto dei Cieli Padre veramente Santo fonte di ogni santità santifica queste donne con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore Egli offrendosi liberamente la sua passione prese il pane e rese grazie lo spezzò lo diede ai suoi discepoli e disse prendete e mangiatene tutti questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi dopo la cena lo stesso modo prese il calice e rese grazie lo diede ai suoi discepoli e disse prendete e bevetene tutti questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati fate questo in memoria di me mistero della fede annunciare la tua morte il Signore proponiamo la tua risurrezione e la fece è il salvatore di noi celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio ti offriamo padre il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci amersi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo ricordati padre della tua chiesa diffusa su tutta la terra rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco il nostro Vescovo Antonio e tutta l'ordine sacerdotale ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza ammettili a godere la luce del tuo volto di noi tutti abbi misericordia donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio con San Giuseppe suo Sposo con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria per Cristo con Cristo in Cristo a te Dio Padre onnipotente nell'unità dello Spirito Santo ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli ammettili 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 guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza dell'Evangelo possiamo dire Padre Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come un cielo così in terra dacci oggi il nostro bene quotidiano e rimette a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori e non ci dure in tentazioni ma liberaci liberaci oh Signore da tutti i mali concede la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compie la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo Signore Gesù Cristo che hai detto ai tuoi apostoli vi lascio la pace e vi do la mia pace non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua chiesa e donali unità e pace secondo la tua volontà tu che viverei nei secoli dei secoli la pace del Signore sia sempre con voi e con il tuo Spirito scambiatevi un segno di pace agnello di Dio che togli i peccati del mondo 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 e che togli i peccati del mondo 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 Grazie. 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 Alleluia. O Dio del cielo. Alleluia. O mio Signore. Alleluia. O Dio del cielo. Alleluia. 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 Signore. Prima della benedizione finale su di noi il sacerdote benedice anche tutti gli oggetti religiosi che avete con voi. Preghiamo. Signore ti preghiamo di benedire questi oggetti religiosi affinché per l'intercessione della gloriosa Vergine Maria e dei Santi Francesco e Giacinta diventi un segno di salvezza per tutti coloro che ne faranno uso. Per Cristo nostro Signore. Amén. E ora rivolti verso l'immagine della Vergine di Fatima che qui è apparsa cento anni fa, recitiamo insieme la preghiera giubilare di consacrazione. Salve Madre del Signore, Vergine Maria, Regina del Rosario di Fatima, Benedetta fra tutte le donne, sei l'immagine della Chiesa rivestita di luce pasquale, sei l'onore del nostro popolo, sei il trionfo sul mare, profezia dell'amore misericordioso del Padre, maestra dell'annuncio della buona novella del Figlio, segno del fuoco ardente dello Spirito Santo, inserisci in questa valle di giochi e di dolori le verità eterne che il Padre rivela ai piccoli. Mostraci la forza del tuo amato protettore, nel tuo cuore immacorato sia il rifugio dei peccatori e la via che conduce a Dio. Unito ai miei fratelli, la fede, la speranza e l'amore, a te mi affido. Unito ai miei fratelli, attraverso di te a Dio mi consacro, o Vergine del Rosario di Padre, e alla fine, avvolto dalla luce che dalle tue mani giunge a noi, la gloria del Signore e del Signore e del Signore e del Signore. Amén. Il Signore sia con voi, e con il tuo Spirito, e benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amén. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Preghiamo grazie a Dio. Il 13 maggio, a Parve Maria, a tre pastorelli in cova di Dia. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Dal cielo son discesa, a chieder preghiera, fei gran peccatori, con fede sincera. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. In mano rosario portava Maria, che ha dita ai fedeli del cielo la via. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Manteniamo un clima di silenzio e di preghiera qui alla cappellina delle apparizioni e in tutta la cova di Dia. e la cappellina delle apparizioni e in tutta la cova di Dio. Grazie.